Ma è vero? Allora, fine, eh, se vuoi chiamare. È così che ti risparmia. Eh, è così che ti risparmia. Perché sai, hanno fame, ma. Anche quelle cacassanti, loro mangiano pane, perché hanno fame a mezzogiorno. E anche quelle cose mangiano pane. Sì, per quello. E loro non mangiano più niente. E dopo faccio i nocchiti. Ah, il salmone, come i tattili, il salmone corso a poco. E dopo? E dopo faccio le tagliatelle. Adesso vediamo se faccio le tagliatelle con i gamberetti e i porcini. L'acqua invece di scolare la tagliatelle, perché non vengono più morbide, capisci? E le spagole tra l'iniziazione del numero. Hai capito? Quei porcini, quei porcini da bere. Se l'hai ancora porcini. Porcino, c'è ancora un porcino, due o tre porcini curati in punta, io. Lo faccio. Quello è il giunco che dobbiamo fare. E allora c'è il suo, la telecamera. Sì. E dopo, tu c'è la grigliazza, lì, tranquillo, c'è la maria, qua quello che ha preparato, le verdure, appunto. Ecco, così gli dai meno lavoro, perché quelli già li fai tu. Sì, sì. E allora gli dai meno lavoro alla maria, mentre se le faccia il giro, non lo faccio. E le cappe, le cappe, le cose, le cose, non le paure. Anche a Giovanna sta a fare un po' di salista per la sua... Sì, 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 ecco, la cosa. Va bene. Allora, tu lì va bene. La maria, così, sta a fare un po' di salista. Perché non è così vitali, non può dire di no. Ma chi? Il 26 e il 27. Ma chi? Io vi ho aiutato quelli che sono gli essenziali, gli essenziali, questi. Di chi è? Ma di chi parli parli? Della maria? No, 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 maria no. E quelli che hanno aiutato sono gli essenziali che hanno aiutato. Hai visto il telefonino che mi ha regalato il mio fratello? E il telefonino sei tu che non funziona. Ma è complicato. Come la madre, vuoi che non ti intendo, è una roba complicata voi o no? Dobbiamo andare a cingere, lo so, a qualche, a metterla a posto. Allora, fammi prenderla, la metà po' a cinque minuti, la metà po' a posto. No, poi metterla in microonde, se no mica la mangio io. E' congelata un po', è abbastanza. No, congelato, tre. Ah, addirittura. Eh? E' un...